Ora sono le 7 di mattina, sono andato a comprare i cornetti, oggi è il compleanno di mio padre, quindi sono andato a comprare la colazione. Mi hanno anche scambiato per uno studente, ho detto magari una volta, mi fa un freddo che io non vi dico, quindi mando a casa, sveglio mio padre, facciamo colazione, gli faccio gli auguri, vabbè sto gelando. Mentre ha preso le passarelle per oggi per il compiano di mia madre, che deve venire mia zia, vediamo che cosa ha preso. Durante il mio zio! Oh my god! Guarda mamma, ti piacciono? Eh? Sì! Questo che è buone? Ehm... Questo è un limone, già mi spi... E' andato qua! Allora appena comprato candeline, piattini, tovaiolini, perché oggi è sabato, facciamo il compiano, vestiamo il compiano di me a casa. Volevamo andare dai cinesi, ma mia madre non sta tanto bene, quindi sono venuto qui anche a ordinare il cinese e portarlo a casa. Già ho prenotato, adesso devo aspettare mezz'oretta ed è pronto, andiamo a casa e si mangia, stanno arrivando le mie cugnate e il mio nipote. Oggi è una bellissima giornata! Qua tre stalker dei vecchietti. Come vedete un vecchietto attacca una pippa a parlà. Bello! Vedete l'altro ieri è stato il compiano suo, ieri quello di mia madre e oggi che sabato li festeggiamo tutti e due insieme. Vediamo se non si fa ruotare da una macchina, vediamo se riuscirà a festeggiare il compiano o dovremmo fare un funerale. Oh! Oh! Che cosa? Che cosa? Ecco qui, preso, adesso si va a casa e si mangia che c'ho una fame! e voilà la barchetta box manu gabri fammi vedere e l'hai fatto tu per nonna amore della nonna si è messo a letto mamma guarda cosa ti ha portato gabriele amore amore mio amore ma però che sai che Roby se li guarda i partiti lui è il tifoso da Roma sfecatato ma sa tutti i risultati se li guarda, se li segue, gli piace però mi è toccato a Roma non magnano, lui è Massimo non magnano, non magnano, ma non magnano non magnano, ma non magnano, l'hai fatto sembra un'altra barra d'acqua di Brugia è il tuo libro di Brugia di Brugia ma trova non ha fatto un fantastico ragazzo c'è la prima del giusto Ah, biscottino portafortuna Che dice il tuo? Una cosa buona, una positiva Fare un'esperienza che non ti dimenticherai mai A me dice E' impressionante come riuscite a convincere il vostro avversario Vero formidabili Guardini, guardi siete Sperta, perché non c'è che non c'è qua lì qua Siete davvero formidabili Mantenete la calma anche in mezzo al massimo sconfiggio Wow Soffiate insieme, papà insieme Belli All'apetite vicino che faccio la foto Al centro mettite però All'apetite 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 All'apetite